Abbiamo dimostrato anche nonostante che siamo andati sotto di un gol che lo spirito di questa squadra è quello di restare sempre uniti, compatti, noi che i nostri tifosi e siamo molto contenti di come sia arrivata questa vittoria. Io penso di aver trovato adesso un equilibrio quindi voglio continuare su queste prestazioni e quando arrivano i tre punti sicuramente i giudizi cambiano un po' però io penso a lavorare come i miei compagni e viviamo per giornate come queste. Moralmente conta tantissimo perché abbiamo dimostrato che questo gruppo è un gruppo importante che nonostante le difficoltà che possono arrivare non si disunisce e quindi penso che oggi la vittoria più importante sia questa, la compattezza di squadra tra quelli che hanno giocato, quelli che sono entrati e quelli che sono rimasti in panchina. Forse fuori casa ci manca quel pizzico di cattiveria, di essere un po' più spregiudicati ecco dobbiamo migliorare sotto quell'aspetto, in casa forse ci vengono le cose un po' più facili dobbiamo farle diventare facili anche fuori. Sapevamo che questa era una partita importante per noi ma anche per i nostri tifosi perché è una partita molto sentita. Noi volevamo riscattarci subito dopo la sconfitta di La Spezia e sappiamo che le vittorie e le sconfitte provengono solo da noi e dalle nostre prestazioni. Oggi abbiamo fatto una grossa partita a tutti, abbiamo dato tutti forse anche un pizzico in più e siamo contenti di questi tre punti. Oggi li abbiamo sentiti molto i nostri tifosi, ci hanno accompagnati per tutta la partita quindi questa vittoria è anche per loro.